La donna, una figura emblematica che dà luogo ad ampi spunti di riflessione. Vista in modo diverso al variare dei periodi storici e dei contesti, è stata venerata, odiata, a volte considerata come la causa di ogni male, altre come generatrice di sole cose positive, spesso sottomessa, a volte dominatrice o complice nell'ascesa di grandi personalità maschili. Nel 2010, le donne reclamano ancora quella parità che a volte è un po' appannata da stereotipi o tradizioni. La Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma 3 ha organizzato un incontro dal titolo L'immaginario pubblico oggi, proprio per capire quale sia il trattamento attuale nei confronti della donna da parte della società. L'università, come tutta la società, vive di stereotipi. In particolare noi ci occupiamo degli stereotipi riferiti alla donna e questo purtroppo anche all'interno dell'università lo verifichiamo più volte. Quello che noi cerchiamo di fare è di cercare di destrutturare questi stereotipi e quindi proporre un'identità femminile più rispondente alla realtà, perché lo stereotipo rappresenta una mistificazione della realtà. La donna che muta la propria figura e le proprie esigenze al mutare dei tempi. Io non penso che sia un avanzamento il fatto che le donne usano i loro corpi per denaro, per carriera. Non penso che sia una libertà. Penso sì che sia un'emancipazione rispetto a quello che hanno semplicemente subito, però è un'emancipazione malata, perversa. L'idea non è libertà il farsi di nuovo oggetto, l'uso del proprio corpo in funzione per un vantaggio, diciamo, carriera e denaro. Io non lo considero, parlo di schiave volontarie. Ma non è questo che ci aspettavamo negli anni settanta, quando parlavamo di riappropriarci di noi stesse, corpo, pensiero. Dicevamo gestire. Era uno slogan che mi piaceva molto. Il corpo è mio, lo gestisco io. Oggi dicono, il corpo è mio, lo vendo io. Ecco, non mi pare che questo sia quello che ci aspettavamo. La donna che a volte ha trovato e continua a trovare la solidarietà maschile, l'uomo che riflette sulle cause della sua discriminazione, ma che a volte tenta di pensare anche alle discriminazioni e agli stereotipi che egli stesso subisce. La discriminazione mi pare che non ci sia rispetto agli uomini. Ci sono invece degli obblighi, ci sono delle pressioni. Da quando a tre anni ti si dice non piangere perché sei una femminuccia, da quando ti si dice se non vai sul motorino, su una ruota sola non sei un vero maschio, se non porti i soldi a casa non sei un vero maschio. Io, se non esprimi continuamente un desiderio verso le donne, vieni preso come uno poco virile. Cioè, gli uomini hanno moltissimi obblighi, hanno moltissimi vincoli nella propria vita. Difficilmente delle discriminazioni. Nascono delle discriminazioni quando quel ruolo sociale entra in crisi. Per esempio, quando tu non sei più il padre, il capo famiglia garantito per sempre, ma quando col divorzio, con le separazioni comincia ad esistere anche la possibilità che una donna se ne vada, allora in quel caso molti uomini lamentano come discriminazione il fatto che i figli non vengono affidati all'uomo, vengono affidati alla donna. Allora, il problema non è fare a gara chi è più discriminato. Il problema è che dentro questo sistema tutti perdiamo un pezzo di libertà e quindi tutti possiamo costruire un percorso di liberazione, sia come uomini che come donne.